E' arrivato come tutti ci aspettavamo la grazia da parte di Gravina, il presidente della FGC e vicepresidente della UEFA nei confronti di Romero Lukaku, l'attaccante dell'Inter che nei quarti di finale d'andata contro la Juventus fu ammonito quindi squalificato perché era in diffida. Ma naturalmente noi sappiamo come funziona la giustizia sportiva, come funzionano i PM, come funziona il presidente Gravina, come funziona il sistema calcio. Abbiamo un po' imparato a conoscerlo grazie anche al report che ha parlato del 5% di quello che capitava. Extra calcio, extra campo nel 2006. Ancora oggi siamo qui a rivivere la stessa storia perché mercoledì prossimo nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia ci sarà anche Romero Lukaku. Non ci saranno invece Quadrato squalificato per tre giornate mentre Andanovic 1, ricordiamo che cosa è successo, la rissa sfiorata e il pugno non visto da nessuna telecamera che è partito da Andanovic nei confronti di Quadrato che poi ha sbagliato e merita le tre giornate senza dubbio. Comunque è successo un po' di tutto, ce lo aspettavamo perché naturalmente Gravina non poteva che non rimarcare ancora la sua idea di anti-juventinità perché è anti-juventino Gravina. Ormai lo abbiamo imparato a conoscere tutto ed è per questo che è riuscito anche ad avere un posto nella UEFA come vice presidente di Ceferin e qua già vi ho detto tutto. Ma la notizia di Lukaku che è in campo non è quella che ci preoccupano i juventini, è la coincidenza di quando Lukaku gioca inevitabilmente arriva un calcio di rigore nei pressi del settantesimo. Diciamo che Lukaku entra attorno al settantesimo del secondo tempo, cinque minuti dopo viene assegnato un calcio di rigore all'Inter. Andatevi a vedere le statistiche ed è stato così nelle ultime tre o quattro partite. Quindi più che essere preoccupato per il ritorno di Romero Lukaku sono preoccupato per la coincidenza dei calci di rigore che arrivano puntualmente cinque minuti dopo che lui è dentro. Cosa vogliamo dire di Gravina? Gravina ormai abbiamo imparato a conoscerlo così come Kine, così come Santoriello. E' inutile che continuiamo a stare lì a dire che è uno scandalo. Sappiamo che Gravina va avanti proprio perché ha dichiarato pubblicamente di non essere amante della Juventus. Lo ha fatto capire anche quando si è opposto alla richiesta della Juventus di avere le carte segrete di Kine e continua a farlo ancora adesso. Perché avrebbe potuto far finta di niente naturalmente, lasciare che la giornata di squalifica andasse avanti. Non che a noi faccia paura Romero Lukaku, a noi fa paura, diciamo, come vi ho detto prima, quella cosa strana che succede cinque minuti dopo che Romero Lukaku entra in campo. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete più paura di Romero Lukaku o del rigore che inevitabilmente verso il 75esimo subiremo contro Sicuro. Questa qua è legge, quello che vi sto dicendo. Quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Gravina vergognoso oltre ogni limite ma ormai tra PM, tra giudici, tra presidenti, vicepresidenti, presidente UEFA, presidente FGC ormai lo sappiamo che la Juventus deve essere punita in qualche modo. Lo stanno facendo in tutti i modi. Lo hanno fatto contro la Salernitana, lo hanno fatto contro la Lazio, lo hanno fatto contro l'Inter. Lo stanno facendo ancora con questa questione di graziare Romero Lukaku. Mentre ricordiamo, in una partita, quando segnò Moise Ken e si fermò sotto la curva degli avversari che gli facevano i ululati e corri razzisti solo con le braccia allargate, prese la munizione con la scusa che era lui a istigare i tifosi. Invece il segno del fare silenzio alla curva della Juventus da parte di Romero Lukaku per gravina non è gravino perché effettivamente gliel'ha perdonata. Detto questo io vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao a io!